Criscito ha rifiutato i milioni della MLS per rimanere al Genoa in Serie B Ha detto ci meritiamo la Serie B per quello che abbiamo dimostrato in campo, ma i tifosi no E sono pronto a tutto, voglio dare una mano per riportare il Genoa dove merita, ovvero in Serie A Queste sono state le sue parole, sono parole che dimostrano ancora una volta quanto questo uomo, non giocatore ma uomo, ci tenga davvero questi colori Ci vorrebbero davvero più uomini come Mimmo in questo sport